Slitta tutto all'8 febbraio 2017. È prevista per quella data, infatti, la decisione da parte del gruppo del Tribunale di Arezzo Piergiorgio Ponticelli circa il rinvio a giudizio per la vicenda delle false fatturazioni dell'ex presidente di Banche Etruria Giuseppe Fornasari, l'ex direttore generale Luca Bronchi, l'ex presidente della finanziaria romana Meterius Fabio Palumbo e l'ex amministratore delegato della stessa Ernesto Meocci. Martedì mattina in aula il PM Giulia Maggiore che fa parte del pull investigativo della procura di Arezzo coordinato dal procuratore Roberto Rossi ha chiesto il rinvio a giudizio per emissione e utilizzo di false fatturazioni. A Giuseppe Fornasari Luca Bronchi si contesta di aver utilizzato a bilancio due fatture intestate alla finanziaria romana dal valore complessivo di circa 300.000 euro e a Ernesto Meocci e Fabio Palumbo di averle messe nell'ambito dell'operazione Palazzo della Fonte nella quale Meterius era advisor, ruolo che l'accusa ritiene fittizio. I difensori hanno chiesto per tutti il non luogo a procedere sollevato eccezione di competenza in quanto l'emissione delle fatture sarebbe stata a Roma dove a sede la Meterius e dunque della questione sarebbe competente la procura romana.